La produzione Indiana Production sta cercando a Spoleto e zone limitrofi uomini e donne di età compresa dai 30 ai 60 anni disponibile a girare per una giornata o più nell'ultima settimana di ottobre per un importante progetto cinematografico dal titolo Romeo e Giulietta per la regia di Giovanni Veronesi. Tutte le candidature vanno inviate a casting.spoleto.cinecasting.gmail.com scrivendo nell'oggetto Spoleto e allegando una propria foto in primo piano e una figura intera su sfondo chiaro fatta poco prima di inviare l'email scrivendo età, altezza, taglia, giacca, pantalone, scarpe e un ricapito telefonico. Solo le candidature idonee saranno ricontattate dallo staff. Sono esclusi dai casting dipendenti della pubblica amministrazione e pezionati. Umbria Film Commission si occuperà del supporto tecnico e logistico per la produzione che si genera Spoleto.